Il francese ce l'ho, ce l'avevo anche L'ho cancellato L'ho cancellato C'era sempre il power Ma che cazzo L'ho cancellato L'ho cancellato Attenzione perché potrebbe essere rubino Perché è rosso Perché le pietre non so come loro catalogino le pietre a prezione Però potrebbe essere rubino È vero che rubino Ti taglia più rosso Ma se no è davetista Si è messa il piccolare La prima cornice No, la sesta La più piccola lì Riar O anche al contrario No Riar Ah scusa Ma che calma No 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 Ma era previsto alle 11.05 il lateraggio è previsto alle 11.05 11.13 dice adesso si è quasi due ore lì no, adesso dice che partiamo adesso che abbiamo le 11.05 grazie a tutti 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 Questa 3.000 giorni, turisti, ero, tonnelli umanitari La Ferri tra i tutti gli averi è prima Certo Brava, sì La Ferri tra i tutti gli averi Questa è la sua Rupina La Ferri tra i tutti 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 Sì Però potrebbe essere anche con i denti Con i denti ci sono Sì La Ferri tra i pezzi La Ferri tra i tutti Le ho saltato Sì E' un'altra parte, insieme a sull'olene Sì E' un'altra parte 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 Il viaggio in 10 km Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la terza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.